Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terzo stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. E' certo che quando lo stadio è pieno la vista di San Siro dà i brividi, è senza dubbio uno degli impianti più caratteristici d'Europa. La partita è già cominciata. Niente di fatto, azione interrotta. Resta in piedi e se ne va, di forza. Ecco che parte il cross. Bell'intervento difensivo. C'è l'opportunità per il contropiede. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Controlla la palla e inizia ad accettare. Marco Sturam! E c'è il quanto è vinto! E segnano il primo gol dell'incontro. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. E il risultato si sblocca. 1-0. Ora hanno in mano la partita ma non possono permettersi cali di concentrazione. Ottima scelta di tempo. Fa sfumare l'azione offensiva. Moslani. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Mkhitaryan. Pallone interessante in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Cerca il dribbling in velocità. Occhio alla conclusione. Conclusione sul fondo. Non abbiamo libero. Non abbiamo libero. No abbiamo libero. La vista di San Siro dà i brividi, è senza dubbio uno degli impianti più caratteristici d'Europa. La partita è già cominciata. Niente di fatto, azione interrotta. Resta in piedi e se ne va, di forza. Ecco che parte il cross. Bell'intervento difensivo. C'è l'opportunità per il contropiede. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Controlla la palla e inizia ad accettare. Marco Sturam! E c'è il gol del Vintero! E segnano il primo gol dell'incontro. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. E il risultato si sblocca. 1-0. Ora hanno in mano la partita ma non possono permettersi cali di concentrazione. Ottima scelta di tempo fa sfumare l'azione offensiva. Aslani. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Mkhitaryan. Pallone interessante in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Cerca il dribbling in velocità. Occhio alla conclusione. Conclusione sul fondo. Noi abbiamo l'intero fuori. 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 Pavard. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Cerca il dribbling in velocità. Occhio alla conclusione. Conclusione sul fondo. Noi abbiamo l'intero fuori. 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 Evita rischi inutili e la passa dietro. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Noi abbiamo l'intero fuori. Intervento decisivo. Tocco prudente al portiere. Decide di allontanarla. E l'arbitro manda tutti a prendere un...